In questa famiglia... Il pupetto più carino del mondo! Il piccolo Aida! Sta accadendo qualcosa di paranormale. Avverto una presenza. Tesoro, hai sentito? Non c'è niente di cui avere paura, sono... Sono solo padelle! È l'unico modo per fermare tutto questo. Sono tifotto medium, ma ce l'ho large. Devo prelevare alcuni oggetti dalla casa, mi servono per scacciare i demoni e smacchiare le macchie residue di spettri. Ehi, questo è fregato! Aio! Ho il pugno passaduto. Per risolvere il mistero. Dobbiamo andare fino in fondo. Sono l'estrattore di sogni. Questo tubo va in bocca e l'altro dritto dritto nel retto. È nel retto? È scorretto. Quello lo usiamo per la bocca e l'altro dritto dritto nel retto. Come capisco chi è la strega? Chi ti infila la scopa nel culo? Indovinate che ora è? Del balletto! Mi hanno detto che una strega vuole uccidermi. C'è sempre una ballerina che non vuole lasciare i riflettori. Facevo il cigno quando ero incinta di te. Questo non fa parte del balletto. Mi ci giocherei le palle. Ho trovato le riprese delle telecamere di sicurezza degli ex proprietari. Ora sapremo. L'hai sentito? Io ho paura. Lindsay, tesoro, non c'è proprio niente da temere. Ti posso richiamare? Aiuto! Sono sposato. Ce l'ho allenata e a questo... Scarimovie 5.